Fede, arte e storia immersi nella natura. Il Sacro Monte di San Francesco d'Orta San Giulio, il Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa, il Sacro Monte Calvario di Domodossola. Siti inseriti nel 2003, tra quelli patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO e dove è possibile vivere momenti di raccoglimento e devozione. Il Sacro Monte di Orta si sviluppa in un parco storico di 13 ettari, oggi riserva naturalistica. Il Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa sorge invece su uno spettacolare terrazzo panoramico di circa 200 ettari di bosco che si affaccia sul Lago Maggiore con il suo complesso monumentale barocco che comprende il santuario, tre cappelle principali, il porticato della Via Crucis, la cappella del Gezzemani e quella della Dolorata. Il Sacro Monte Calvario di Domodossola si erge sul panoramico Colle di Mattarella che domina l'ossola e che fu teatro di molti eventi storici. Nel 1828 vi si stabilì Antonio Rosmini, recentemente inalzato agli altari, che creò l'Istituto della Carità, di cui i padri rosminiani sono tuttora custodi. Altro luogo di profonda fede e meta di molti pellegrini è il santuario della Madonna del Sangue di Re, all'estremità orientale della Valle di Gezzo, che fu eretto a seguito di un evento miracoloso.